Ciao a tutti, sono Leonardo Pascali, direttore tecnico del progetto da Audi Dakar e oggi vi vorrei raccontare tutte le migliorazioni che abbiamo portato in questo auto. La prima parte che vi vorrei raccontare è la parte fronte del crash. Questa è una migliore cambiata che abbiamo fatto questo anno. Con questa parte, cambiando il design, ma rendendo la parte anche più leggera, abbiamo potuto aumentare 4 volte l'absorzione di energia in caso di un crash fronte. Questa è la parte fronte che viene qui, dietro questa parte. Qui abbiamo il fronte fronte. Quindi il design non ha cambiato molto. Quindi ciò che abbiamo fatto è mettere qualche luogo qui, in modo da evitare che l'acqua e l'acqua passano sul screen, per ottenere una migliore visibilità per i driver. Abbiamo anche modificato l'acqua e i calipari. La principale risposta per questo è di migliorare la distanza tra le rime e i calipari, per evitare che le stelle potrebbero sceglie tra le due parti e generare un grande problema sulle rime. Abbiamo anche cambiato completamente il design di questa parte. e vedete che non abbiamo più il matto fronte fronte e rear. Un altro grande cambiamento che abbiamo fatto è che il ruolo di ruolo. Qui è ancora più leggero e facile da disassemblare. In particolare abbiamo una piccola parte, ma abbiamo cambiato il pin. Ora abbiamo due ruoli per tutte le squadre e hanno bisogno di cambiare le ruoli durante un stage per cui potrebbero semplicemente assemblare il ruolo di ruolo. Anche abbiamo cambiato il design di rear. Qui abbiamo cambiato più il design, perché qui puoi vedere che è completamente gratuito e abbiamo lavorato molto per migliorare il peso. e vedete che la visibilità è più leggera rispetto a quello che abbiamo fatto l'anno scorso. Qui abbiamo anche scelto il ruolo di ruolo per il fan. Quindi abbiamo solo un peso. Non c'è nulla che potrebbe migliorare il ruolo di ruolo in questa palla. Ovviamente abbiamo lavorato molto sull'installazione di damper all'anno scorso. Abbiamo anche lavorato molto sull'installazione di damper e quindi abbiamo cambiato l'installazione di fronte e rear per essere migliori e integrati con l'additionale che abbiamo questo anno. In questo anno, con l'anno scorso, abbiamo più 15 kW. Quindi con questo caro speriamo che sia ancora più competitivo in quanto l'anno scorso, per ottenere davvero buoni risultati in un'auto. grazie a tutti. Grazie a tutti.